Tramma della vigilia sulla statale 87, un morto e tre feriti in bilancio dell'incidente che ha coinvolto tre vetture, la vittima e il 68enne Antonio Iacovino Dilarino. Tragedia sfiorata a Campo di Pietra per lo sversamento di idrocarburi in un pozzo di una casa poi evacuata, chiuso un distributore, una donna si sente male. Troppe disuguaglianze sociali anche in Molise a Natale il monito ai politici dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Maria Bregantini nel Tg gli auguri di Marciano Ricci. Il villaggio di Natale e la sua magia accolle i cioffi, stili, suoni e personaggi tipici del mondo anglosassone. A Montaquila il 30 dicembre Babbo Natale scenderà dall'elicottero. Infine allo sport il calcio di Serie D. Isernia penultima ma soddisfatta dopo il pari col Matelica Silva elogia la squadra. L'Agnonese riflette sugli errori, Ricciardi suona la carica. Ben trovati, ben trovati e buon Natale a tutti. In apertura l'avete sentito dai nostri titoli. C'è la cronaca, il dramma della vigilia, un incidente stradale ieri sera sulla Statale 87. Un morto e tre feriti. La vittima è il 68enne Antonio Iacovino. Sul posto per noi c'era Giovanni Cannars. E' di un morto e tre feriti il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla Statale 87 che collega Larino con Termoli. A perdere la vita Antonio Iacovino, un 68enne del centro frentano, viaggiava in direzione di Termoli quando intorno alle 18.30 per cause al vaglio di polizie e carabinieri la sua lancia Ypsilon avrebbe urtato una Opel Station Wagon che lo precedeva e nell'altro senso di marcia viaggiava un SUV che non è riuscito a schivare la lancia. L'impatto è stato violentissimo ed Antonio Iacovino è morto quasi sul colpo. Sul SUV di colore rosso viaggiavano quattro persone, marito, moglie e due figli che dopo lo schianto sono terminati in una cunetta a bordo strada. Gli automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l'allarme sul posto insieme alle forze dell'ordine. Si sono portati i vigili del fuoco da Termoli, il personale medico del 118 e le ambulanze dei volontari della croce San Gerardo di Larino e quella dei volontari della croce Padre Pio di Santa Croce di Magliano insieme al personale dell'ANAS. L'incidente stradale è avvenuto al chilometro 200 più 700 quasi al bivio per Ururi. Nulla si è potuto per salvare la vita ad Antonio Iacovino al loro arrivo i sanitari, ne hanno potuto constatare solamente l'avvenuto decesso. Il leso ma molto provato il conducente della Opel, tra invece i feriti che stavano sul SUV, sono stati medicati sul posto e poi trasferiti all'ospedale Santimotio di Termoli dove gli accertamenti del caso hanno escluso gravi complicazioni. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono adesso al lavoro gli agenti della stradale di Termoli, i carabinieri di Larino, forse la pioggia battente, l'asfalto vicido, forse un malore oppure una desattenzione. Tutti elementi al vaglio degli inquirenti, non escluso che per andare in fondo alla vicenda possa essere anche disposto all'autopsia sul corpo dello sfortunato 68enne di Larino nelle prossime ore. La notizia si è diffusa subito in paese, lanciando nello sconforto parenti ed amici che proprio in quel momento si preparavano a festeggiare la vigilia del Santo Natale. La strada statale 87 è stata chiusa in entrambe le direzioni fino a tardanotte per permettere le operazioni di soccorso e per sgombrare il manto stradale dai detriti delle tre autovetture. Ancora la cronaca distributore di benzina chiuso e un'abitazione evacuata, tragedia sfiorata a Campo di Pietra, vigili del fuoco di Campobasso in azione anche questa mattina. Vediamo i dettagli nel servizio. Questa casa sarebbe saltata in aria se uno dei componenti della famiglia che vi abitava avesse acceso la luce. Sarebbe esplosa perché il locale dove obbicato il pozzo era saturo, pieno di carburante, penetrato nella falda freatica di tutta Campo di Pietra. Falda acquifera contaminata dalla benzina che sarebbe fuoriuscita dalle cisterne di un distributore che si trova a pochi metri dall'abitazione. Serbatoi vetusti e pieni di crepe messi in sicurezza dai vigili del fuoco che sono giunti sul posto prontamente, allertati dal capo famiglia e dal sindaco di Campo di Pietra, Giuseppe Notartomaso. Nella casa in via Montini c'erano cinque persone, ora trasferite in albergo a spese del comune, padre, madre e tre figli. Per la donna un inizio di intossicazione da idrocarburi, per fortuna ora sta bene, mentre l'uomo ha provveduto ad allertare i soccorsi e a mettere in sicurezza la famiglia. Giovedì una ditta specializzata provvederà allo svuotamento delle cisterne, poi bisognerà bonificare l'intera zona e il pozzo della casa e solo successivamente la famiglia potrà rientrare in via Montini. Ed ora apriamo la pagina, l'ampia pagina dedicata al Natale con un messaggio di auguri molto speciale. Io vorrei dare un augurio a tutto il mondo e soprattutto ai bambini che non possono trascorrere un felice Natale con la propria famiglia, con i bambini malari e poveri e un augurio soprattutto al Molise, la mia terra. Volevo dare un augurio di un buon Natale e di un buon anno a tutto il mondo, diciamo, a tutti gli italiani, i molisani e al mio paese. Tengo al Molise e alla mia terra e a Montagoli dove sono nato e vivo. Con tutto questo qua mi auguro che nel prossimo anno sia meglio di questo, di quest'anno, che ormai sono dieci anni che viviamo una crisi profonda tutta l'Italia. Di cuore, auguri a tutti! Il messaggio di Natale, il messaggio di auguri del presidente Marciano Ricci che era in compagnia del nipote Marciano Junior, sempre pungente, Marciano Ricci che chiede alla classe politica nazionale, maggiore coerenza per risolvere i problemi concreti delle persone, degli italiani. Il Natale è anche un momento di riflessione per il vescovo di Campobasso, Boiano Giancarlo Maria Brigantini. Ci sono troppe disuguaglianze sociali, lo abbiamo intervistato questa mattina. Vediamo il servizio. Un'insaziabile ingordigia attraversa la storia umana. Fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Omelia per la messa della notte di Natale, presieduta nella Basilica Vaticana. riflessioni condivise dall'arcivescovo di Campobasso, Boiano Giancarlo Maria Brigantini, a margine della messa di Natale di stamattina nella chiesa di Santa Maria della Croce, in pieno centro storico. Una disuguaglianza sociale che anche in Molise è sempre più evidente. Sì, c'è chi ha due lavori, c'è chi non ne ha. Come dice Giovanni Battista, chi ha due tuni, chi ne dia una, chi non ne ha. Purtroppo viviamo questa differenza sociale, soprattutto nei confronti di chi nella vita fa più fatica. Ci sono come delle figure, delle pesantezze, specialmente le periferie. Io sono stato in una strada, in un quartiere popolare e veramente vedi la precarietà anche quest'anno. Però vedi anche tanta gente coraggiosa, tanti volontari, tante persone che hanno speranza, che danno speranza. Quindi questo Natale parte proprio da qui. I pastori, i più lontani, riconoscono per primo Gesù e Maria nel suo grembo ci dona il figlio, ma in quello ci dona anche il coraggio e la speranza del futuro. Dio ci benedica veramente, auguri a tutti i molisani, auguri a tutte le persone in difficoltà, perché sia un Natale di luce e di coraggio. Quest'anno il Vescovo di Sernia, Venafro, Camillo Cibotti, ha voluto dedicare alle mamme che danno la vita. Il suo messaggio di Natale ai fedeli della Diocesi lo ha sentito Nicola De Santis. Monsignor Camillo Cibotti, cosa si sente di dire alla sua comunità per questo Santo Natale? Principalmente vorrei augurare un Natale di serenità e di concordia nella famiglia. Guardando il presepe e nonostante anche la ricchezza dei personaggi che spesso occupano i presepi casalinghi o quelli più tradizionali parrocchiali, l'attenzione è sempre colta da quella grotta, da quella capanna, dove a spiccare e emergere sono le figure di Maria, Giuseppe e il bambino, la famiglia. Per questo vorrei che tutte le famiglie della Diocesi riscoprissero il valore dello stare insieme, del nutrire e arricchire la loro realtà di affetto, di sentimenti, quali l'amore, la fedeltà, la solidarietà. E legato a questo momento, quello del Natale, vedo veramente vicino l'evento dell'Epifania, dove i magi, nel visitare Maria e il bambino, almeno così il testo sacro si esprime, mette in evidenza la figura materna. Cosa sia successo a Giuseppe o dove sia Giuseppe, il testo sacro non ce lo fa sapere, però penso che sia stata una zoomata, se vogliamo usare questo termine giornalistico, per cogliere la centralità nella famiglia che allora, come oggi, deve avere la madre, la donna, la moglie. E invece quello del Vescovo di Termoli, Larino Gianfranco De Luca, è un invito al silenzio e alla riflessione. Ancora Giovanni Cannars. Monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli, Larino si rinnova il tradizionale appuntamento con il Santo Natale. Qual è la parola ai fedeli quest'anno? È difficile, no, dire una parola, perché sono tante le parole che in questi giorni ci scambiamo, tutte parole magari beneauguranti, di consolazione. E poi, soprattutto, sembra che manco ci sia tanto tempo per dire le parole, perché vedendo un po', girando per le nostre strade, si vede tanto fervore o tanto da fare, no? Ecco, negozi un po' pieni, sono pensieri, no? Che... però se io dovessi dire una parola inviterei al silenzio, no? Prima di tutto a me, perché è facile come bypassare il mistero che si celebra. Il mistero è sempre un mistero che avviene nel silenzio, no? Ecco. E allora l'invito a fermarci un attimo, fermarci un attimo e a guardare Gesù, no? Quel bambino meglio, quel bambino che poi gli metteranno il nome di Gesù. Ed il Vescovo di Trivento, Claudio Palumbo, parla invece delle novità che porta Gesù. Sentiamo. Qual è il senso profondo del Natale? Il senso profondo del Natale è la novità che Gesù Cristo ci porta. Papa Francesco ci ha regalato una bellissima lettera a marzo scorso sulla santità cristiana, gaudete ed exultate, nella quale invita ogni credente a vivere la santità battesimale, la santità quotidiana, la santità feriale. Lui la chiama la la santità della porta accanto ed è una santità che si nutre delle novità di Dio, mettendoci in guardia da un pelagianessimo che può ritornare e anche da un gnosticismo che può ritornare. Allora ecco, venendo nel mondo, ha scritto Sant'Ireneo di Lione, un grande padre del secondo secolo, Cristo ci porta ogni novità. È la novità del cuore. Se l'uomo non si rinnova nel cuore, Gesù cresciuto da grande dirà se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore della vita non entrerete nel Regno dei Cieli, ecco la novità del cuore la porta Gesù Bambino. E non è un Natale sereno per tanti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, non risparmia critiche alla politica, il sindacalista Pasquale Guarracino. Guarracino, per tanti lavoratori questo non è un Natale sereno? Assolutamente sì, con grandissimo dispiacere perché credevamo in un Natale di cambiamento, credevamo in un'inversione di rotta, almeno anche questa classe dirigente politica aveva le soluzioni ad ogni problema in campagna elettorale. La campagna elettorale è finita, la classe dirigente senza idate, i problemi sono rimasti tutti quanti lì, anzi se è possibile stanno aumentando. Beh in Molise manca un progetto, mancava prima, manca ancora oggi, evidente. Non possiamo pensare ai consiglieri regionali che fanno spot elettorale tutti i giorni, continuamente, in Molise si dovrebbe fare questo, in Molise si dovrebbe fare questo, fatelo, benedetto è Dio oggi che è Natale, fatelo. Non c'è più tempo per aspettare, fate quello che ritenete sia opportuno per il Molise per dare una direzione vera però, invece manca un progetto, non si capisce a che cosa si punta, non si capisce a che cosa si fa, basta vedere nei settori nostri, nel turismo, nel commercio, ma che cosa si è fatto fino ad ora? Assolutamente niente, così come niente era prima e la gente continua a perdere l'occupazione. Poi basta vedere anche a livello nazionale, il governo nazionale appunto, uno delle prime cose, parlava delle domeniche, delle aperture festive e delle aperture domenicali, non si è fatto niente nemmeno lì, quest'anno ancora una volta i centri commerciali, i negozi e i piccoli, ahimè, sono stati aperti, hanno tentato di stare aperti, quindi si sta facendo veramente poco e molto male, il resto sono le chiacchiere. E allora parliamo del borgo di Babbo Natale a Montaquila perché il 30 dicembre, dalle 15.30 come vedete dal manifesto, ci sarà una sorpresa per tutti i bambini con Babbo Natale che scenderà direttamente dall'elicottero. E a Colle Cioffi, su iniziativa della dottoressa Daniela Angiolilli, è possibile ammirare un meraviglioso villaggio di Natale che riproduce stili, suoni e personaggi del mondo anglosassone. Siamo andati a visitarlo con le nostre telecamere. Il villaggio Lemax è un vero e proprio must per gli amanti del genere. Collezionisti di tutto il mondo, con maestrie ed edizione, ricreano atmosfere tipiche del mondo anglosassone con l'inserimento delle più svariate forme e di molteplici colori. Nel villaggio Lemax trovano ospitalità numerosi personaggi con diverse ambientazioni. Il mare, il mondo di Babbo Natale, il Luna Park, il paese con la stazione ferroviaria e l'immancabile trenino. Un vero e proprio mondo in miniatura che riproduce le atmosfere dei giorni di festa. Un hobby per gli appassionati che richiede passione e soprattutto tempo. Anche a Isernia, su iniziativa di Daniela Angiolilli, dottoressa, specialista in medicina estetica, è nato da qualche anno un villaggio Lemax a Colle Cioffi. Un mondo incantato che si arricchisce ad ogni Natale di nuovi particolari, con personaggi ed edifici in movimento, accompagnati da dolci melodie che si fondono per rendere magica l'atmosfera natalizia. Allora, quest'idea è nata circa tre anni fa. Io sono un'appassionata di decorazioni soprattutto natalizie e quindi navigando su internet sono capitata casualmente in questi video di villaggi natalizi che vengono realizzati soprattutto nei paesi anglosassoni, anche se ultimamente diciamo si sta diffondendo anche da noi. E quindi ho deciso di iniziare a realizzarli oltre al tradizionale presepe. E quindi eccomi, insomma, questo è il lavoro che ho realizzato dopo il mio terzo anno. Come nasce la struttura? Quali materiali hai utilizzato? Allora, la struttura è molto semplice. Si possono utilizzare diversi tipi di ripiani. Io ho utilizzato un tavolo e delle tavole su dei cavalletti. Poi viene tutto rivestito con cartoncini o con la carta roccia e della neve finta che è una specie di ovatta che va a rivestire tutta la struttura e i cavi elettrici che alimentano le varie casette. Quest'hobby quanto tempo ti porta via? È abbastanza tempo. Io sono partita da quest'estate e il lavoro vero e proprio è partito da fine ottobre fino all'8 di dicembre quando poi ho acceso tutto. C'è dietro anche un lavoro di ricerca dei materiali, delle forme da utilizzare? Una ricerca costante, continua dei materiali, delle varie scene da rappresentare, dei personaggi da introdurre, personaggi che alcuni rappresentano anche la mia vita e quindi ho voluto introdurre nel mio villaggio. L'obiettivo è di ampliare questo villaggio? Sicuramente di ampliarlo e di magari dedicare una stanza in cui viene lasciato lì per tutto l'anno e quindi senza continuamente smontarlo. Feliz Navidad Musica lirica, classica, jazz, questi generi che hanno catturato la platea dell'auditorium nel Gran Galà di Natale. È successo per l'evento che si è svolto a Isernia, c'eravamo anche noi, il contributo. Consensi e applausi per la seconda edizione del Gran Galà di Natale. All'auditorium Unità d'Italia di Isernia il concerto, organizzato per la seconda edizione dai direttori artistici Simone Sala e Paolo Bartolucci, ha spaziato come di consueto tra vari generi, dalla classica al jazz, dalla lirica al pop, mettendo in mostra le qualità di artisti molisani che con sacrificio e impegno sono riusciti a scalare il mondo della musica arrivando a esibirsi in decine di paesi del mondo, oltre che in prestigiosi teatri italiani. Ad aprire la serata l'ospite Alberto Firincieli, docente e musicologo che, con il suo clavicembalo, ha eseguito il concerto 1052 di Bach, accompagnato da un ensemble d'archi diretto dal noto maestro e compositore Claudio Luongo, anche lui motore dell'evento. Subito dopo è stata la volta dell'orchestra giovanile Città di Isernia, diretta da Nicola Graziano. Il maestro, insieme al primo violino Francesca Cimino, ha ritirato dalle mani del sindaco Giacomo D'Apollonio e dell'assessore alla cultura Eugenio Chianischi il premio talenti della nostra terra, istituito sin dall'anno scorso dagli organizzatori. I ragazzi Isernini, che stanno sfruttando la musica come aggregatore sociale, oltre che come opportunità lavorativa, hanno poi eseguito due brani contemporanei. Premio speciale anche a Dionisia di Vico, mezzo soprano Isernina, che ha all'attivo tre produzioni, tra cui una prima mondiale alla scala di Milano, oltre che collaborazioni e concerti in tutto il mondo. L'assessore regionale alla cultura, Vincenzo Cotugno, le ha consegnato l'omaggio, sottolineando il valore della serata e quanto la regione stia puntando su musica e cultura. La parte lirica del concerto ha visto quindi i protagonisti, la stessa di Vico, con Stride la Vampa, dal Trovatore di Verdi. Bartolucci, per lui vent'anni di carriera e tanti concerti, con I Pagliacci e la Mattinata di Leoncavallo. E ancora la giovane e promettente soprano di Isernia, Carmela Anna Fascino, che nella sua carriera si è esibita persino con Bocelli e che ha eseguito due brani di Puccini, dalla Bohème, Sì, mi chiamano Mimì, e da Gianni Schicchi, O mio bambino caro. Dalla lirica al jazz, con Simone Sala, che reduce dall'ennesima tournée, è stato accompagnato dall'orchestra del Sannio nella famosissima Rhapsodia in blu di Gershwin. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora vediamo che tempo farà domani sulla nostra regione con il meteo. Previsioni del tempo di mercoledì 26 dicembre, si rinforza l'alta pressione a garanzia di una fase più stabile, cielo pertanto sereno, poco nuvoloso, temperature senza particolari variazioni, contesto ancora freddo, ventilazione tesa, mare molto mosso, ecco le temperature sui maggiori centri della regione, Campobasso minima 0, massimo a 7 gradi, Isernia a meno 1, 10, Termoli 2, 10, Venafro 3, 11. Bene, tutto per questa edizione, ancora buon Natale, grazie per averci scelto, ma restate con noi perché tra pochissimo c'è la pagina sportiva. Lo sport, il calcio di Serie D, parliamo subito dell'Isernia con le parole di Massimo Silva che si complimenta con i suoi per l'impresa sfiorata contro il Matelica, l'intervista di Valentina Ciarlante. Mister Silva, il risultato e lo stato d'animo al termine della partita col Matelica sintetizza un po' forse tutto il girone perché c'è ancora oggi questa grande amarezza di aver visto sfumare un risultato, una vittoria che sembrava acquisita. Però quasi acquisita perché noi una partita straordinaria dei ragazzi, poi con quanti under avete visto che abbiamo giocato, quanti 2000, avevamo poi in panchina da Iaboni ad altri non disponibili, quindi avevamo grosse difficoltà, quindi abbiamo fatto per 70-80 minuti una grandissima partita, proprio veramente grande partita contro praticamente la prima della classe, però ci può anche stare di subire il pareggio, certo un po' d'amarezza c'è sempre perché nel calcio quando si vince, si vince e quindi noi eravamo in vantaggio a essere raggiunti dispiace sempre, anche perché poi nonostante la forza loro non avevamo poi concesso tantissimo. C'è stato un gesto molto bello da parte sua alla fine della partita, quando ha applaudito lei stesso e i suoi ragazzi, anche quel messaggio che ha voluto lanciare un po' la sintesi di questo girone d'andata, di questo campionato, cioè grossi sacrifici per una squadra che di sicuro non è partita con i favori del pronostico. Sì, devo dire che in questo senso si impegnano proprio in maniera grandiosa, anche io non mi fanno perdere entusiasmo perché chiaramente quando vedi squadre come quella di oggi, avversari e tu che hai insomma tutti questi giovani qualche problemino, un po' dispiace, però sono d'accordo con la società, siamo veramente in simbiosi nel voler completare la rosa e con questo spirito veramente potremmo fare cose migliori. E ora le parole del centrocampista dell'Olimpia agnonese Luca Ricciardi, intercettato durante la festa che si è svolta in Alto Molise nei giorni scorsi. A proposito della festa, giovedì nel corso di Molise Sport, un ampio speciale sull'evento. Intanto sentiamo Ricciardi, un agnone che deve riflettere per potersi salvare. Luca Ricciardi, stasera sei stato definito il simbolo di questa squadra, tu senti questa responsabilità addosso? No, sinceramente no, fa piacere essere accostato come simbolo ma alla fine mi sento uno come tanti. Si lavora tutti i giorni per migliorare sempre perché si migliora anche a 30 anni e quello che si è fatto in passato non conta nulla. Adesso a livello tecnico sembra che non manchi nulla perché sono arrivati tanti giocatori, ne avevamo anche già parlato, importanti. Che cosa vi può far fare quel passo in più, quello scatto per fare un girone di ritorno davvero importante? Sicuramente le vittorie che danno morale perché come hai detto sono arrivati giocatori importanti e dobbiamo cercare di portare l'obiettivo che ci siamo prefissati a casa. Se il lavoro, lavorando tutti i giorni, solo così possiamo portare il risultato a casa. Sicuramente serve anche una concentrazione massima, no? Perché per esempio l'ultima partita con il Montegiorgio è stata una beffa praticamente. Eh sì, si può definire una beffa anche se questa squadra ha dimostrato che andando sotto anche parecchie volte l'ha sempre recuperata. È una squadra che aveva fatto sette risultati utili e quindi significa che è anche difficile batterci perché siamo concentrati 90 minuti. Una battuta d'arresto ci può stare, speriamo il meno possibile però. Che pronostico fai per questo girone di ritorno? Cosa serve per incamerare quei punti necessari alla salvezza? Eh di solito il girone di ritorno è sempre più duro. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita preparandola bene durante la settimana e dare tutto la domenica. Poi quello che viene, viene. Dobbiamo cercare di fare la prestazione tutte le domeniche e giustamente se poi la fai bene raccogli. Altrimenti? Altrimenti no. Bene tutto anche con lo sport. Grazie per averci scelto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.